L'allarme lo lancia il servizio meteo del programma europeo Copernicus. Si preannuncia un'estate di fuoco, rimane alto nell'isola il livello di pericolo di roghi boschivi e in vista della prossima campagna antincendi 2024-2026 la Sardegna rischia di arrivare sguarnita con una flotta aerea ridotta ai minimi termini. Sono a disposizione solo 5 elicotteri a fronte dei 14 previsti. Infatti anche la terza gara d'appalto per il noleggio di aeromobili antincendio per il prossimo triennio è andata deserta. Le società che noleggiano i mezzi hanno avuto tempo dal 15 aprile fino al 6 maggio per presentare la propria offerta. Il Corpo Forestale spiega che chi ha gestito il servizio fino all'anno scorso, sia l'Elitellina, non ha trovato il bando vantaggioso anche perché, nonostante fosse stato aumentato il contributo per ogni ora di volo, ciò non è stato ritenuto sufficiente per coprire l'incremento del prezzo del carburante. Inoltre è possibile che le società abbiano preferito virare verso altre regioni che nello stesso periodo hanno indetto i loro appalti come Sicilia e Lombardia. Una soluzione all'orizzonte tuttavia ci sarebbe. Con tutto quello che spende all'anno per il noleggio, la regione in pochi anni potrebbe direttamente acquistare una flotta tutta sarda in dotazione al Corpo Forestale. Ma a quel punto potrebbero sorgere altre insidie, occorrerebbero piloti formati, meccanici, senza contare le inevitabili spese per le manutenzioni.